Forte l'impegno per la tutela del territorio agropolese da parte dei vigili urbani della città, a tracciare un bilancio dell'attività dell'anno 2020 è il Maggiore Sergio Cauceia, comandante dei vigili urbani di Agropoli. Per quanto riguarda la nostra attività, nell'anno 2020 devo fare una precisazione anche rispetto al lavoro che ha svolto il mio predecessore, il Maggiore Di Biasi, che è andato in pensione il 31 agosto e successivamente l'attività che ha segnato il mio comando che è iniziato il primo settembre del 2020. Durante tutto il 2020, ovviamente gli eventi della nostra attività sono stati fortemente segnati dall'epidemia da Covid-19, ci siamo affiancati durante tutta la fase 1 di questa epidemia alle forze di polizia dello Stato, sostenendole ad aduandum, affiancandoci alla loro attività e nel tentativo di contenere pericolosi e preoccupanti pericoli di diffusione di contagio. Possiamo dire che nella nostra comunità in parte la nostra azione è stata importante perché ha contenuto preoccupanti fenomeni di diffusione del contagio, sebbene abbiamo avuto episodi di mortalità importanti, ma rispetto a realtà demografiche pari a quella di Agropoli o anche della provincia o fuori provincia, il fenomeno è stato abbastanza contenuto. Ancora oggi possiamo sostenere sotto questo punto di vista che siamo quasi un'isola felice rispetto a triste realtà regionali. L'attività della Polizia Municipale è stata improntata in modo particolare a questo tipo di attività di prevenzione e anche di repressione perché abbiamo elevato nel corso della prima fase e della seconda fase circa 70 contravvenzioni per chi avesse violato le disposizioni normative regionali e statali in relazione ai dispositivi di sicurezza Covid, sia riguardo alle persone fisiche che alle attività commerciali. Per quanto riguarda invece l'attività propria di vigilanza abbiamo elevato oltre 14.000 verbali su strada di violazione al codice della strada e abbiamo accertato oltre 100 abusi di lizi che hanno determinato altrettante ordinanze di demolizione. In queste molti sono stati sottoposti anche alla misura cautelare del sequestro ad iniziativa della Polizia giudiziaria. Quindi forte l'impegno nella tutela del territorio, delle nostre bellezze paesaggistiche ed è forte l'impegno dalla parte dell'amministrazione che dimostra particolare sensibilità sul tema dell'ambiente e della tutela del territorio tanto che ha voluto fortemente sostenere anche dare un contributo fattivo di collaborazione affiancando all'opera della Polizia Municipale anche quella di associazioni di volontariato nel settore dell'ambiente e della tutela degli animali, sia della fauna selvatica sia degli animali da cortile. Negli ultimi tempi, segnatamente dal mese di settembre, in collaborazione con l'ANITA, l'Associazione Ambientalista e Guardie Ezoofili abbiamo controllato tutta una serie di attività di borghi di frazioni del Comune di Agropoli segnatamente nell'azione di contrasto all'abusivismo edilizio e questo ha portato degli ottimi risultati perché abbiamo deferito all'autorità giudiziaria e sottoposto a sequestro diversi manufatti edili e al fine di elevare la consapevolezza da parte della cittadinanza che vi è una particolare attenzione sull'aspetto ambientale e paesaggistico. La nostra attività continua, almeno fino alla fine dell'emergenza, sebbene lo Stato non abbia espressamente richiesto la nostra attività, così come è stata per la fase 1 del lockdown, noi riteniamo anche su impulso dell'amministrazione in via del tutto autonoma di dover dare un contributo alla causa e quindi anche se il questore di Salerno non ha richiesto il nostro contributo, noi concordamente con alto senso di collaborazione con la Compagnia dei Carabinieri di Agropoli abbiamo stabilito di continuare il nostro percorso di controllo incessante, senza interruzioni e quindi diamo il nostro contributo, continuiamo a sforzare attività di controllo sia per quanto riguarda il rispetto dell'uso dei dispositivi di protezione sia per quanto riguarda l'osservanza da parte delle attività commerciali in ordine alle disposizioni statali e regionali in merito. L'anno 2020 volge al termine, è stato un anno segnato da bruttissimi episodi che noti a tutto il mondo e quindi l'augurio che formulo alla mia comunità è quello che il 2021 sia un anno che porti serenità, spensieratezza, tanta salute e soprattutto che il Covid-19 possa essere solo un bruttissimo ricordo sperando che le cose vado sempre in meglio per tutti.